dobbiamo accettare questa grande opportunità e chiedere qualcosa a Sadhu Maraj quindi dirò alcuni versi in Hindi e chiederò a Sadhu Maraj di raccontare questo versi e chiederò a Sadhu Maraj di spiegare questi versi in Hindi che ci dà Maraj e non ce l'ha Siamma, Siamma, Nama Rupa, Siddha, Gunadharma, Gaoroke, Mantra Dhamma, Adho, Rupa Dhyana questo versi spiega tutto e Sadhu Maraj spiegherà il significato e allora la decisione è questa che Maraj spiegherà il verso e poi Sadhu Maraj elaborerà il significato Siamma, Siamma, significa Radha e Krishna Siamma, significa Radhika Siamma significa Radhika perché a causa dell'amore per Krishna vuole assumere lo stesso colore che a lui Siamma è il colore del blu scuro delle nuvole di pioggia di Vrindavan questo è solitamente il colore di Krishna e solitamente questo è il colore di Krishna Radhika's colore è gold invece perché il colore di Radharanya è dorato però siccome lei gli vuole bene tanto vuole essere come lui e per questo amore così profondo ottiene il suo colore Siamma, Siamma, dark and dark quindi questi due termini possono essere detti come scuro la scura e lo scuro Namarupa Namarupa il nome e la forma Siddha Siddha meaning perfection Siddha invece significa la perfezione Guna meaning qualities che significa le qualità Dharma Dharma meaning about place where Radha Krishna is living Invece il Dhamma significa il posto dove vivono Radha Krishna And this is quality Radha Krishna has E queste sono le qualità che Radha Krishna ha And by e a cao per Mantra dana Ripetendo il mantra All together Tutti insieme With Rupa Dhyan Con meaning meditation Deep meditation About their eternal form Quindi ripetendo il mantra tutti insieme con profonda meditazione sulla forma eterna Noi possiamo sviluppare L'amore puro per loro E quindi la richiesta a Sadhu Maharaj è quella di spiegare il significato profondo di questi termini Io mi sento veramente fortunato con la vostra associazione Ogni momento della vita È per imparare Ogni momento Dice lui vive Maraj Vive Sempre nella stanza insieme a Maraj Ha tutti i momenti che vuole Eppure fa una domanda anche adesso Travelling together Sleeping together Viaggiamo But never say I will ask you this So is Viaggiamo insieme Dormiamo insieme Però non mi ha mai detto Ti voglio fare questa richiesta Really I don't know Dice in realtà io non lo so Quindi io in realtà non lo so Però se per la vostra misericordia Se per la misericordia di Prabhupada Se per la misericordia del Guru Arriverà qualcosa Io la condividerò con voi Conoscendo insieme alla wattage Prometemos Sembra e Sha valley Vedermi Siamo Sembra e Siamo Sembra, shama Siamo Siamo Can I explain, it should be subject word-by-word, no? Yes. But it's not just… No, that's just… I will say you listen. Get some help. Adhephtu, risedelti in the home front. Prima Shama, poi Shama. Shama ci può portare a Shama. Shama significa i sentimenti, l'unità, l'unione. Shama e Shama non c'è differenza, perché sono uno. Sono diventati due. Significa? Ok. Un'anima. Un'anima con due corpi. Un'anima, due corpi. Questo è Shama. Questo significa Shama, Shama. L'anima è una ma è diventata due corpi. Significa Krishna's Alad. Significa Krishna's Alad. Alad significa elstasy of internal happiness. Allad. Alladini Shakti è l'estasi interna della felicità. Questo significa Shama. Questo significa Shama. Sono due e diventano uno e diventano due. e sono diventati uno e sono diventati due. Quando sono uno allora due Atma in un corpo due sole in un corpo Ek Dehe Do Pran Ek Dehe Do Pran significa un corpo e due sole e Ek Dehe Do Pran due body due body ma la sole è un questo è oneness. Potete sentire come si interessa si interessa potete sentire quanto exchange scambiano i sentimenti sono i loro sentimenti sono i loro sentimenti questa dolcezza questa dolcezza questa beatitudine la vogliono distribuire a tutti noi quindi questo Shama e Shama appaggiano come Dio appaggiano come Dio Gora Gora significa che Goranga diventa Gora Goranga Gora Gora become Goranga Goranga become Gora significa Radhika expand like a Goranga che significa Radhika si expande nella forma di Goranga come Goranga questo è Shama Shama questo è il significato di Shama e Shama che diventano uno soltanto è un corpo che lì dentro però ci sono due anime due sentimenti due tipi di sentimenti quindi se si vuole conoscere Shama ovvero Krishna quindi se si vuole conoscere Shama ovvero Krishna allora si deve andare attraverso gli occhi di Shama per vedere Shama allora si deve andare attraverso gli occhi di Shama per vedere Shama devi prendere l'accento, devi prendere l'accento per vedere Krishna e poi puoi capire. come un Gaurahari, usate un Gaurahari. cos'è Gaurahari? Gaur è Radhika. Hari è all'interno e dentro di Radhika. tutto ciò che si vuole sentire devi vedere fuori e poi all'interno. quindi se io per prima cosa non comprendo l'esterno, allora poi non potrò andare nell'interno, in interiorità. giusto? quindi se si vuole comprendere Hari, si deve per primo comprendere Gaurah. Radhika. Radhika. quindi la linea è Shama, Shama. Nama Arofa. Nama. e form. Nama il nome il forma. quando si medita, si medita solamente su Krishna o su Shama Shama? qual è il nome che si sta cantando e il tipo di meditazione che si fa, che si ha? se io medito solamente su Krishna, perché centro la mia forma in Krishna, Krishna come la forma, e quindi canto il nome di Krishna, allora otterrò Krishna. allora otterrò Krishna. diventerò vicino a Krishna. diventerò vicino a Krishna. ma non vicino a Shama Shama. ma non vicino a Shama Shama. non Radha's Krishna. non il Krishna di Radharani. non Gaurah. non Gaurah. Gaurahari. non Gaurahari. non Gaurahari. si comprende? si comprende? significa che io voglio lasciare Gaurah per vedere Gaurah per vedere Gaurah all'interno di Gaurah. quindi se non arrivo nei sentimenti della misericordia di Gaurah è perché vedo solamente Hari senza di Gaurah. quindi si dice Shama Shama Shama. e il nome deve essere questo. in questo tipo di meditazione Sarupa deve venire, deve emergere. e il nome di Radha, il Krishna di Radharani. ehm? right? ehm? il nome, il nome e il nome deve venire in questa Mala. allora la Misericordia inizierà a fluire. allora la Misericordia inizierà a fluire. ehm? Siddha Gona Dhamma. Siddha che significa la perfezione. si otterrà la vera perfezione. si otterrà la vera perfezione. madre, il padre ti giudicherà molte volte. ma vuoi prendere qualcosa da tua madre. però se si vuole prendere della Misericordia invece dalla madre. e non sei bui, non sei qualificato per la madre. nessuna qualificazione. ma senza qualificazione la madre non ti giudicherà e ti darà quello che noi desideriamo. questa è la natura dei sentimenti materni. il padre ti giudicherà senza giudare non ti darà nessun desiderio, non ti darà nessun desiderio, non ti darà nessun desiderio. se sei qualificato o non, allora la Misericordia può arrivare. se uno è qualificato, allora il padre darà la Misericordia. madre, senza qualificazione, la madre ha quella misericordia. quando non ti ha qualificazione, allora più di cuore viene a te. mentre su un figlio ha meno qualificazione, addirittura, la madre darà molta più, si prenderà molta più cura e darà più misericordia al figlio. shama, shama. questo è il sentimento materno, ma'an, lo vedete anche nella natura umana. questo si può vedere anche nella natura umana, questi tipi di sentimenti. quindi per la Misericordia di Radhika e per la Misericordia di Gaurà, allora è molto facile poter comprendere tutto ciò. quindi nella Bhagavad Gita anche Krishna dice sarva dharmana pratagye mam e kam. nella Bhagavad Gita Krishna dice questo verso, mam, significa come to me, come to me, il mio uno. allora comprenderai il nitya dharma, il vero dharma. allora comprenderai il nitya dharma, il vero dharma. senza la misericordia di Shri, senza la misericordia di Radhika, senza la misericordia di Radharani, di Kishori, non potremmo mai andare in profondità nelle realizzazioni. e questa è la via per la perfezione nella nostra vita. cosa? Siddhi guna dharma. Siddhi. le qualità, automaticamente, tutte le qualità, tutte le qualità, tutte le perfezioni arriveranno nella nostra vita, allora potremmo comprendere tutto ciò, ogni cosa. la misericordia. la misericordia. la misericordia. questo è la misericordia. senza fare, la misericordia significa, senza fare qualcosa, hai ricevuto. questo è la misericordia. la misericordia significa che senza comprare chissà che, si è ottenuto qualcosa, si è ottenuto dalla misericordia senza seguire molte cose. e uno è il sadhan sadhi. che significa che dopo aver eseguito un forte sadhana, allora si riceve dalla misericordia. ma se non avete qualità, non avete qualità, e noi non abbiamo qualità. non avete una lunga vita per vivere e fare qualche sadhana. ci sono molti disturbi nella nostra vita. allora qual è la via? solamente la misericordia è la via. solamente la misericordia è la via. ma anche attraverso la misericordia, ogni tipo di perfezione può arrivare nella nostra vita. perché anche attraverso la misericordia, ogni tipo di perfezione può arrivare nella nostra vita. e quindi è il dham, il posto in cui loro vivono. e quindi è il dham, il posto in cui loro vivono. il posto in cui loro stanno vivendo. dove Radhika sta vivendo. dove Radhika sta vivendo. per prendere la polvere di quel luogo. per ottenere la sua misericordia. cosa è Kripa? dhamma. dhamma. dhamma è un posto dove Radhika vive. perché anche Radhika non va a Matura, perché Radhika non va nemmeno a Matura, che sono solo dieci chilometri da Vrindavana. no. she only stay in Vrindavana and that place Krishna never lives. e lei è solamente a Vrindavana e quel luogo Krishna never lives. that is the place where she never go from there and Krishna also not going from there. and that place where Radha e Krishna insieme non se ne vanno mai da Vrindavana. then we will ask how this happened that Krishna went to Matura and Dharika? allora ci si può chiedere come è successo allora che Krishna andò a Dharika, Matura? yes. there is two Krishna. one is Narayan Krishna. Narayan Krishna Diskussionna took birth in Matura and Narayan Krishna Natqa matura with the four hands see? and when the Basvadeva is bringing on the basket to Krishna E quando Vasodhana portava Krishna nel cesto sopra la testa, that time Krishna touched the feet of Yamuna because the Yamuna is coming up and up. That time he went in Yamuna. Narayan Krishna. So Yasodhana andan is in Vrindavan. And when the... Akuru came to bring Krishna, that time the gopi stopped him to go, then he said, I will not go. Then he went to Yamuna to take bath. And he stayed there, Brajantrananda. And Narayan Krishna went out to do this Lila. Even Brajantrananda never killed any demons there. No, you read Caitanya, 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 Adi Lila, il quarto canto. There, Brajantrananda, he never comes to kill anything. He instructed to Narayan Krishna to do this, and he did this. Narayan, Narayan... In the Narayan, he is doing. And Narayan, he is doing. The safety of Narayan killing things. Krishna has only one thing to give love. Krishna has only one thing to give love. He is still Nita... 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 Every moment, past time is going on. Asniya. That perfection, you can realize only in Brajant. That kind of perfection is only in Brajant, in Brajant. Shama, Shama. Shama, Shama. Gaoroke Mantradana. Gaoroke Mantradana. Gaoroke Mantradana. Oloke. Gaoroke. means you have to go. Sing. How to go? Gaoroke. By crying. If there is no crying, crying. Like a baby is crying. Like a baby is crying. To go to mother. Mother cannot stop to take a baby, right? But we never cry. Gaoroke. We have to cry. We have to cry for you mother. We have to cry for you. So... My all words should be crying for you. I know. I know. When I will cry, Mother never stop to embrace us. You have a big motherly mercy. This living entity, soul, has similar feelings like a creator, you know? Because this is... Why this quality? Because we are part and parcel of you. Why this quality? Because we are part and parcel of you. So... When I will cry, you will never stop to embrace and hug me and take in your lap, my dear. When I will cry, Mother never stop to embrace and hug me. Greed. Narayan Maharaj is always telling, we need greed for that. This rāga bhakti, we need only greed. Rāga means prem. In the prema... Prema need greed for that. And to reach the prema, we need a brāmasyā and nobilītā. Bhādhi bhakti, you have to do... Bhādhi activate actions and you have to be in perfection. But in rāga, in a prema, you need to be in perfection. Mentre nella rāga bhakti, nel prema, si ha bisogno solamente dell'aviditā spirituale. That gao... That roke gao... Will you cry and sing? Cry for sing for your ma... To go in the lap of... Please, I need you. I cannot live without you. Shāma shāma, you make your servant. I want to be your servant. I want to serve you. Gaurā, I want to serve you. Gaurā, ti voglio servire. I know you come in Kali... To help us... How to increase my loving service for the Lord. You come to teach us personal relation. Impersonal is not working. L'impersonale non funziona. per raggiungere in un modo stretto Krishna, per avere un rapporto vicino con Krishna. Non solo da Krishna, in questo mondo materiale non funziona. Se non siete personali, non si possono scambiare i propri sentimenti. Non sapete, con nome o con sentimenti, se è mio o non. Ma se avete una relazione personali, puoi share, puoi cercare con lui. Certo o no? E i amici sempre parlano di relazione personali. E lui vuole relazione personali. E' la via della Rāga Bhakti. Gaurā, Kā, Mantra, Dāna. Sì. Gaurā, Rāke, means you have to cry and... What to say? Your name... Mantra means your name is a mantra. Gaurā, Rāke, significa che si deve piangere. Cosa piangere? Il nome, che sarebbe il mantra. Nāma. Nāma, no? Gaurā, Rāke, Mantra, Nāma. Mantra, Dāna. Dāna. Se si vuole donare qualcosa, se si vuole donare qualcosa, se si vuole donare qualcosa, se si vuole donare qualcosa a lui, piangere. Se si vuole donare qualcosa, lui allora si deve fare mentre si piange. Con il sentimento. Con il vero desiderio. Con il vero desiderio. Lui allora non potrà rifiutarti. e ti dirà, no, tu sei mio. fare, no, tu sei. Sāmarā, Rāke, Rāke. Rāke, 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 Rāke Rāke. Rāke, 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 Rāke. in tala. Adho Rupadhyana. Adho? Adho. Rupadhyana. Rup? Rupadhyana. Rup, lo sai? Rup, lo sai? La forma. La forma. Questa luce ha una forma? Non ha una forma. È solamente luce. Uno è la luce e uno è la forma. La luce può amare la forma? Non è possibile. Due forme possono condividere l'una con l'altra. Rupa significa che la tua forma e la mia forma sono necessarie. se ho ottenuto la tua forma, qual è la mia vera forma? Questa forma fisica non potrà funzionare per condividere con te. solamente la forma dell'anima funzionerà. solamente la forma dell'anima funzionerà. è quella la nostra identità, mio amore. è quella la nostra identità. è quella la nostra identità. spirituale della nostra anima, la identità della nostra vera forma, con la sua forma. Perché non posso centrarmi sulla sua, sulla tua forma? perché non sono neanche centrato nella mia forma? Perché non mi relaziono con te, perché non mi relaziono con te, perché non mi relaziono con te, perché non mi relaziono con te. quale è la mia forma e quale relazione io ti rendo relazione. Rupa, questo è Rupa. Solo Krishna, Rupa, non funzioneranno. Rupa significa che se vuoi una relazione bisogna di due forme. Come la tua forma e la mia forma. La sua forma e la mia forma. La tua forma e la mia forma. Eh? Solo conoscendo la forma di Krishna non sarà abbastanza per avere una relazione con lui. Si deve conoscere anche la nostra forma, sapere qual è la mia forma e la sua forma. Perché non nasce una relazione anche se io ho delle divinità, perché io vedo la sua forma, però non conosco la mia forma e penso solamente che la mia anima è come una luce. Sì. Sì. Ma la perfezione, in realtà, se qualcuno ha l'amore, ha la perfezione della sua forma. Rupa, ha la perfezione quando è perfettamente centrata nella sua forma spirituale. Se uno ha un amore materno, allora è fisso completamente sul tipo di forma che gli può far sviluppare un amore materno e anche nella forma di chi ama lo vede come un figlio, ad esempio. E' perfetto. Se invece un altro ha un tipo di sentimento da amico, allora è pienamente fissa che la sua forma spirituale è quella di amico di Krishna e anche identifica Krishna con quel tipo di forma da amico così che può relazionare con lui. Mentre se è in un tipo di sentimento coniugale, anche in quel caso sarà perfettamente centrato nella sua forma e vede Krishna a seconda della sua realizzazione della sua forma. è quella la perfezione, la siddhi. È quella la perfezione, la siddhi. Five more? Yes. Rade. Rade, 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 Rade. Rade, 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 Rade. sensazioni, perché per sviluppare la perfezione nella nostra vita, in questa vita. Questa è Kripa Vindudhya, Gurudev dà una goccia di misericordia nella nostra vita e questa misericordia porta a noi la perfezione nella nostra vita. E E' lavorato, non è che E' lasciato a te, E' lavorato in noi tutti i momenti che quando la mia scuola si sviluppa la perfezione in ogni entità vivente, i miei disabili, in me stesso, tutti, non ci resta, E' cambiato il suo corpo, ma è diventato più divino per riuscire questa perfezione nella nostra vita. Questo è il Guru Kripa, Gurudev, Kripa Vindudhya, questo Kripa Vindudhya, questo è la scuola di misericordia che ci dà. e questo è la misericordia del Guru. Il Guru non è che ci lascia mai, lui è costantemente con noi. Solamente quando ad esempio lascia il corpo, cambia solamente il corpo, ma è costantemente il nostro aiuto. Quando dà questa goccia di misericordia, fino a che noi non raggiungiamo la perfezione nella nostra vita. questo tutto il Guru Kripa, questo è per ascoltare, questo per capire, è anche la sua misericordia, che posso capire questo punto, quale è stata la grande misericordia nella mia vita, quale scuola mi ha dato e dove vuole mettere. lì, lui sarà soddisfatto da me. Anche la comprensione, l'ascolto e tutto ciò misericordia del Guru, per la goccia di misericordia che lui ha donato a noi, succede solamente per lui, per la sua misericordia. e io davvero servo a fare questo, che la mia connessione sempre sarà là. È una connessione divina. Non è una connessione fisica. È divina. È spirituale. È una connessione. E non cambierà mai. E non cambierà mai. E' una connessione fisica. Non lo puoi cambiare. Non c'è bisogno di cambiare. È là, all'interno. Solo dobbiamo capire, realizzare e praticare per aumentare la connessione più alta. Quindi non si potrà mai cambiare. Quella goccia di misericordia ormai è lì. Quindi uno deve svilupparla, cosicché da raggiungere la perfezione per la cosa più elevata. Qualche domanda? Sì. 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 Quindi abbiamo solamente cinquant'anni, e in cinquant'anni abbiamo così tante responsabilità da seguire in questa vita materiale. Quindi se io realizzo qualcosa all'età di trent'anni, allora rimangono solamente trent'anni sono già passati. E trent'anni, se tu fai meno trent'anni, diventa settant'anni. Settant'anni, la metà dormendo trent'acinque. E in trent'acinque cosa succede? Quanto stiamo facendo in sadhana? Quanto sadhana possiamo fare? Quindi la misericordia è che se io faccio un piccolo sadhana, arrivano un grande risultato. Nel Kali Yuga la vita è molto limitata. Non c'è molto tempo per il sadhana, ma il sadhana è buono per fare il sadhana e per essere in virtù. Però dobbiamo andare in pura virtù. Con il sadhana posso essere in virtù. Per venire nella pura virtù. E per venire nella pura virtù. E per venire nella pura virtù. E per venire nella pura virtù. Solamente la misericordia ci può aiutare. Up to sadhana, il sadhana è molto... Attraverso il sadhana possiamo mantenere noi stessi nella virtù. Lo capisci? Lo capisci? Lo capisci? Se l'ignoranza è lì, io posso praticare per venire nella pura virtù. Lo capisci? 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 Lo capiscici devono essere cor intimidated alle学azioni spirituali, allora io devo andare in pura virtù che realmente attraverso la misericordia potrò raggiungerla. Il bhajan è il mio sadhana, io faccio il mio sadhana per purificare il me stesso, per sviluppare la pura virtù. Ma la mia sadhana e la misericordia funzionano più veloce. Altre domande? Io volevo sapere come si fa a sapere qual è la forma della propria sviluppa. Ora possiamo sapere qual è la forma della nostra sviluppa. Ha chiesto come si può sapere qual è la forma della nostra sviluppa. E anche in inglese. She asked how we can know which is the form of our sviluppa. That is mercy and it come by the mercy. Yes, by your sadhana and by the mercy. But necessary. It was perfection. You can see in the life of any close to the God, they do this sadhana and they develop this perfection. They are not saintly, they become one. Because they are in the highest perfection. Is a city. Is a, is a, is a, is a, is a, is a, your job. Ah, here. So that's, that is your sadhana plus mercy. And this is the goal of our life. What is the use to take birth if I cannot get perfection? Devotional practice. Prabhupada, right in Bhagavad Gita, Devotional practice. Prabhupada scrive nella Bhagavad Gita, in sadhana. Le pratiche devozionali attraverso il sadhana improve your sarup, your identity. Incrementano, migliorano la tua identità spirituale. Right? Yes. And that identity will develop perfection. That identity. That identity we have to double up on. That identity we have to double up on. But, Maraj, who will reveal? Guru or in the heart? He's all dependent person to person. You cannot say only, this is all, all this, dress. Where grace is coming, you cannot say, okay? It should come. That is the most important. For the perfection. For the perfection. Yeah. Right. This bridge should be important enough. This bridge should be important enough. And really this comes from Radhika's mercy. That I can say. and this will be important. Krishna cannot give this. Krishna non can give this. No. If you go to Him, He will send you back to Radhika. If you go from Him, He will send you back to Radhika. That is the place to get it. Because that is the place to get it. Aspettiamo e guarda che questo è quello che accadrà. Quindi quant'anni si è ricordioso Prabhupada, quant'anni si è ricordioso, non conosciamo niente, è un kambrindavana, kambrindavana. Perché? Non lo sappiamo perché. Quando andiamo 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 scioccati. Ma si inizia a vivere, a comprensione, a capire. È una realizzazione, è con parole che nessuno può esprimere, nessuno può insegnare a qualcuno. Non si può veramente istruire o spiegare con le parole, tutta una cosa di realizzazione propria. Quello che qui è difficile, lì sarà naturale, sarà facile. E tutto ciò che qui è facile, c'è difficoltà. Rade. 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 Rade.